Si avvicina il mese di settembre e si avvicina anche in teoria, ma forse non solo, quest'anno anche in pratica, il periodo della vendemmia. Sì, è proprio così. Quest'anno la raccolta tornerà ad essere settembrina. Questo è dovuto al mese di maggio, che è stato molto piovoso e caratterizzato da base temperature. E questo finalmente, dopo due anni caratterizzati da vendemmia anticipate, farà tornare ad essere la vendemmia settembrina. Si stima un calo della produzione a livello nazionale di circa il 10%, ma questo calo della produzione sarà sicuramente controbilanciato da un aumento della qualità della produzione pendente. Meno vino, ma più buono. Esattamente, meno vino, ma più buono. Il vino ormai è uno dei fiori all'occhiello dell'agricoltura marchigiana, ci si attende quindi un'ottima raccolta. Basti pensare che nello scorso 2018 l'export ha sfiorato i 57 milioni e ha fatto segnare un più 4% nei primi mesi del 2019. L'80% della superficie marchigiana viticola è destinata a produzione di pregio, quali DOC, DOCG e GT, e sono produzioni sempre più apprezzate sulle tavole estere. In base al tipo di vino, che cosa comincerà prima? Cioè la vendemmia su che cosa si concentrerà intanto? Beh, sicuramente si inizieranno le basi spumanti, la raccolta appunto per le basi spumanti inizierà ai primi di settembre, e poi mano a mano riguarderà i vini che saranno più complessi, fino ad arrivare ai rossi. È stato un meteopazzo, si diceva, ma tra virgolette grazie a questo meteopazzo. Sì, grazie al mese di maggio molto piovoso abbiamo una raccolta che finalmente torna settembrina. Certo, ora aspetteremo di vedere come sarà il mese di settembre per la raccolta, ma ci aspettiamo un'ottima produzione e di ottima qualità. Grazie a tutti.